Un primo maggio non senza polemiche ad Arezzo sarebbe stata infatti negata dalla provincia Villa Severi per la festa dei lavoratori. A renderlo noto sono stati CGL e Cisleguil che considerano illegittima la negazione degli spazi che lo stesso ente ha concesso ad esempio per le manifestazioni del 25 aprile. I segretari dei sindacati Alessandro Mugnai, Marco Salvini e Cesare Farinelli ribadiscono infatti in una lettera che la richiesta per la festa del lavoro era relativa agli spazi aperti del parco, non interessati quindi ai motivi di sicurezza legati al rispetto delle principali norme tecniche. Qualora proseguono per motivi che non siamo in grado di individuare, questi problemi si estendessero alle aree aperte, ci permettiamo di sottolineare che ciò che è pericoloso per i cittadini che festeggiano il primo maggio è ugualmente pericoloso per quelli che passeggiano nello stesso parco. CGL e Cisleguil scrivono quindi di non ritenere né plausibili né soddisfacenti le spiegazioni date, tanto da considerare sin da adesso e per il futuro lo spazio pubblico del parco di Villa Severi utilizzabile per iniziative pubbliche, anticipando che, qualora fosse di nuovo negato questo diritto, si rivolgeranno nelle sedi delle autorità competenti per vederlo rispettato. Non si è fatta attendere la replica della presidente della provincia di Arezzo, Silvia Martini Chiassai, che ha reso noto che non è mai stata festeggiata questa ricorrenza Villa Severi perché luogo non idoneo ad un evento simile, visto che la provincia è proprietaria solo di un piccolo resede esterno e di un'altra porzione di terreno adibita d'orto e gestita da un'associazione e altri spazi sono di proprietà del comune di Arezzo. Si comprende benissimo che gli spazi all'aperto non siano idonei, prosegue, ad ospitare la manifestazione per la portata numerica che l'evento può accogliere. Pensando anche al momento storico, conclude Silvia Martini Chiassai, sarebbe più opportuno spendere forze d'energia preoccupandosi della mancanza di lavoro che attanaglia soprattutto i giovani, invece di puntare il dito sulla provincia con accuse di gravi illegittimità. La festa comunque domani si farà, ma nel parco del Foro Boario sarà una giornata nel segno della doppia unità, in primo luogo quella tra sindacati che tornano a festeggiare insieme il primo maggio e poi tra gli stessi sindacati le associazioni di volontariato del territorio.